Sì, il Signore se l'è scelta proprio di là. Oggi diremo dai rioni popolari grevi di sudori e impregnati di stabio, dai quartieri bassi dove i tuguri dei poveri si rimangono ancora in piedi e perché si appoggiano a vicenda. Penso a certe periferie dove le zanzare brulicano sulle pozzanghere della strada e le mosche volteggiano sugli escrementi o a certe zone del centro storico imbandirate con i panni del bucato dove vige il condominio degli stessi rumori e degli stessi silenzi. Il Signore, Maria, l'ha scoperta lì, nell'intreccio dei vicoli profumati di minestre meridiane e allietati dal grido dei frutti vendoli, tra le fanciulle che dai pianerottoli colmi di gerani parlavano d'amore, nel cortile dove i vicini prolungavano nell'ultimo sbadiglio i racconti della sera prima che si consumasse l'olio della lampada e risonasse il tintinnare dei chiavistelli e si sprangassero gli usci. L'ha scoperta lì, non lunghi corsi della capitale, ma in un villaggio di pecorai sconosciuto nell'Antico Testamento, anzi additato al pubblico sarcasmo dagli abitanti delle borgate vicine. Da Nazareth può mai venire qualcosa di buono? L'ha scoperta lì, in mezzo alla gente comune, e se l'è fatta sua. Maria non aveva particolari ascendenze dinastiche. L'araldica della sua famiglia non vantava stemmi nobiliari come Giuseppe. Lui sì, benché si fosse ridotto a fare il carpentiere, era del casato illustre di Davide. Lei, invece, era una donna del popolo. Ne aveva assorbito la cultura e il linguaggio, i ritornelli delle canzoni e la segretezza del pianto, il costume del silenzio e le stigmate della povertà. Prima di diventare madre, Maria, era dunque figlia del popolo, apparteneva anzi all'anima più intima del popolo, a Janawim, alla schiera dei poveri, al resto di Israele sopravvissuto allo sgretolamento delle tragedie nazionali, a quel nucleo residuale, cioè che teneva vive le speranze dei profeti, nel quale si concentravano le promesse dei patriarchi e da cui passava il filo rosso della fedeltà. Farò restare in mezzo a te un popolo umile e povero, confiderà nel nome del Signore il resto di Israele. Così aveva profetato sofonia. Donna del popolo, Maria si mescola con i pellegrini che salgono al Tempio e si accompagna alle loro salmodie. E se in uno di questi viaggi perde Gesù dodicenne, perché, credendolo nella caroana, non sa immaginarsi suo figlio, estraneo, all'ansimare della gente comune. C'è nel Vangelo di Marco un'icona di incomparabile bellezza che delinea la natura, la vocazione e il destino popolare di Maria. Un giorno, mentre Gesù sta parlando alla folla che lo ascolta seduta in cerchio, arriva lei con alcuni parenti. A chi lo avverte della sua presenza, Gesù, girando tutto intorno lo sguardo e additando la folla, esclama «Ecco mia madre». A prima vista potrebbe sembrare una scortesia, invece la risposta di Gesù, che identifica sua madre con la folla, è il monumento più splendido eretto a Maria, donna fatta popolo. Santa Maria, donna del popolo, grazie, perché hai vissuto con la gente, prima e dopo l'annuncio dell'angelo. Non hai preteso da Gabriele una scorta permanente di Cherubini che facesse la guardia d'onore sull'uscio di casa tua? Grazie, perché pur consapevole di essere la madre di Dio, non ti sei ritirata negli appartamenti della tua aristocrazia spirituale, ma hai voluto assaporare fino in fondo le esperienze povere e struggenti di tutte le donne di Nazareth. Grazie, perché d'estate ti univi al coro delle spigolatrici nelle campagne imbruciate dal sole, e nei merigi d'inverno, quando il tuono brontolava sui monti di Galilea, e tu avevi paura, ti rifugiavi nella casa delle vicine, e il sabato per lodare il Yahweh, partecipavi con le tue amiche alle funzioni comunitarie della sinagoga, e quando la morte visitava il villaggio, accompagnandoti ai parenti, intridevi, tossendo il fazzoletto di lacrime, e nei giorni di festa, quando passavi il corteo noziale, attendevi anche tu sulla strada, e ti sollevavi sulla punta di piedi per vedere meglio la sposa. Santa Maria, donna del popolo, oggi più che mai abbiamo bisogno di te. Viviamo tempi difficili, in cui allo spirito comunitario si sovrappone la sindrome della setta. Agli ideali di più vaste solidarietà si sostituisce l'istinto della fazione, alle spinte e universalizzanti della storia fanno malinconico riscontro i sottomultipli del ghetto e della razza. Il partito prevarica sul bene pubblico, la lega sulla nazione, la chiesuola sulla chiesa. Dacci, ti preghiamo, una mano d'aiuto perché possiamo rafforzare la nostra declinante coscienza di popolo. Noi credenti, che per definizione ci chiamiamo popolo di Dio, sentiamo di dover offrire una forte testimonianza di comunione, sulla quale il mondo possa cadenzare i suoi passi. Tu, onorificenzia popoli nostri, rimannici accanto in questa difficile impresa. Non per nulla ti ripetiamo nel canto. Mira il tuo popolo, o bella signora. Santa Maria, donna del popolo, insegnaci a condividere con la gente le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce che contrassegnano il cammino della nostra civiltà. Donaci il gusto di stare in mezzo, come te nel cenacolo. Liberaci dall'autosufficienza e snidaci dalle tane dell'isolamento. Tu che sei invocata nelle favelas dell'America Latina, tra i grattacieli di New York, rendi giustizia ai popoli distrutti dalla miseria e dona la pace interiore ai popoli annoiati dall'opulenza. Ispira fierezza nei primi e tenerezza nei secondi. Restituiscili alla gioia di vivere e intoneranno gli uni e gli altri finalmente insieme salmi di libertà.